Comunque le scalate le faccio sempre, conviene perché non metti in difficoltà. E' un'azione adottive. Dobbiamo anche continuare nello Sancio Missionario, in particolare in Africa, ma anche in Asia, con radio e di minoranze cattoliche. Abbiamo avuto ragione di partecipare tutti insieme all'Udino Generale del Santo Madre e ad Arcos, un'opera di ritorno a Radio Maria. All'opera di tutta la famiglia mondiale di Radio Maria, ho dovuto salutare personalmente il Santo Madre, il quale perfettamente informato del lavoro di Radio Maria, se ne compiace, ringrazia, incoraggia e lo benedice. Ho promesso a Santo Padre, in nome di tutti, il nostro affetto, la nostra costante regliera, il nostro sostegno e la verità assoluta al suo magisterio. Nel pomeriggio, abbiamo posto in Sicilia una giornata, con una solenne concelevazione, la sua ruota anche alla camera. Ieri, amici, abbiamo vissuto la vita di entusiasmo e il lavoro di fare medico, aiutando la Madonna e la Chiesa nella grande opera della salvezza delle amiche e della pace. Ho detto a Santo Padre, che le Radio Maria sono 70, ma che la Roma, se lo sono avuto, non possiamo commettere limiti al cuore Patrico di Maria. Qui c'è la, sto truzzando qua, è la... Alla fine, qua le 4 frecce, e questa ACR, cuciniere, sta pronta, sta pronta, sta pronta, sta pronta, sta pronta, sta pronta, sta, ad esempio, 8, quando ti aiuta a mantenere le stampine davanti, che si può disinzerire, che si può anche disinzerire, quasi attimo, ogni volta che accendiamo, però premento per 2 secondi si disinzerisce, Pena punta, che si può anche prendere la strada, per la mano di un'altra, piccola, l'altra suц 구멍 del centro, all'interno, è la geschmata, a dove hai visto la scuola, che si ho avuto, ci sono sempre, a chiuso, a chiuso, a chiuso, a chiuso, a chiuso, a chiuso, a chiuso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.